Eccoci qua in un nuovo video Oggi vi voglio parlare del test Autodesk che ho fatto per la stampante Adventure M5 Pro Perché ho fatto questo test? Non l'ho pubblicato insieme alla recensione della stampante Perché volevo un attimino analizzare bene questa cosa Ho visto e vedo che a volte ci sono delle recensioni Dove, non lo so, forse saranno i modelli che hanno ricevuto altri youtuber Che non saranno fatti bene Non so cosa dirgli in questo caso Però vedo che comunque i test Non vorrei utilizzare la parola giusta senza offendere nessuno E senza anche dare colpa a nessuno Perché ovviamente nessuno ha colpa Più che altro di dare che a volte questi test non siano un po' veritieri Ecco, non dico che dicono bugie o altre cose O che un questo sia Però mi sembra che su certe cose Niente È nato tutto questo perché Ho visto un video dove c'era questo test di Autodesk E dove giustamente la stampa di chi l'ha fatta non è uscita come doveva E quindi ci stavano molti problemi Io ora vi faccio vedere le mie Seguitemi Ecco, sto avviando il test Autodesk Vediamo un pochettino come si comporterà la nostra stampante Ecco qua È terminato il nostro test Come vedete È abbastanza Fatto bene il pezzo Ora lo vediamo meglio Eccolo qua Lo togliamo Dalla nostra stampante Ecco qui Si è staccato già tutto Ecco qua E come vediamo Un piolino è già caduto proprio da sì Quindi Un piolo è andato via Vediamo un attimo Il secondo è andato via Il terzo è andato via Il quarto è andato via E il quinto Quattro su cinque sono andati Qui si sono tolti tutti e cinque i violini Quindi il punteggio qui è massimo Poi come vedete Qui la struttura ha letto benissimo C'è qualche particolarità da sistemare Però A parte lo straining Che mi ha fatto Dove un po' di più Un po' di meno Qui vabbè Si è rotto A causa mia Colpa mia È caduto Però anche qua Le dimensionalità Sono perfette E i ponti Come vedete Solo un pochettino Il secondo ponte Qui a scendere Attacca sotto Ma diciamo che siamo quasi A un punteggio massimo Fatto da una stampante Che si è screditata tantissimo A me sembra invece il contrario Perché dice No i pionini non si tolgono Questo no Questo no Ma alla fine Non è andata così male A prescindere che mi è caduto Però vi faccio vedere L'altro test Eccolo qua Questo è l'altro test Dove Qui i ponti addirittura Molto meglio C'è stato un pochettino Qui sotto qui Ma Era un problema di distacco Dal piano E quindi si è attaccato L'ultimo ponte Che però Ha cercato Siamo di rimanere Il distacco Qui ancora meglio Gli sbalzi E i violini Come potete vedere Si muovono tutti C'è Se ne vengono tutti Eccoli qua Tutti proprio Vedete Cioè Non è un Truccato Nel niente L'unica cosa È lo streaming Però anche queste Le torrette Belle Precise Cioè guardate qua Che precisione Quindi Io capisco Che forse La stampante E Posta non piacere Ognuno ha il libro Di scegliere Quello che gli piace E quello che non gli piace Dal mio punto di vista Questa stampante La Deventolo 5M Pro È una stampante Abbastanza valida Ovviamente Ci saranno sempre Stampanti Migliori Superiori Nulla da dire Non metti in dubbio Questo Però di certo Non merita Certi punteggi Che vedo Nei test E certe critiche Tutte le stampanti Quello che ho imparato Fino ad oggi E dalla mia esperienza Comunque richiedono Attenzione Richiedono Manutenzione E se le utilizzi Per lavoro Come service Comunque te ne accorgi Impari a conoscerle E quant'altro Poi È naturale Ci sta chi piace Una marca E chi piace Un'altra Però comunque Se dobbiamo essere obiettivi Questa stampante Comunque È molto valida Per ora Per questo video Quello che voi parlare Del test autodesk Fatto Con la Deventolo 5M Pro È riuscito Per detratare Le vostre conclusioni E potete scrivere Nei commenti Quello Che pensate Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Seguitemi Pollici in su al video Ci vediamo al prossimo video Ciao